Buonasera a tutti, sono Virgilio Maretto, CEO e co-founder di Posti. Posti è una start-up innovativa, è stata fondata l'anno scorso, il primo giugno del 2018, giorno del mio compleanno, ed è nata per la valorizzazione del cibo italiano. Vi lascio l'agenda, in particolare oggi vi presento un progetto che stiamo realizzando per la tracciabilità della vendita diretta, i mercati contadini sono un patrimonio del territorio italiano di altissimo valore, sia per le varietà dei prodotti che sono commercializzati nei mercati, ma anche per la caratteristica di freschezza che hanno questi stessi prodotti, anzi direi proprio la super freschezza di questi prodotti, oggi voi quando andate al mercato andate proprio perché volete comprare un prodotto super fresco. Quindi noi attraverso un sistema di tracciabilità della filiera ortofrutticola cerchiamo di dare queste garanzie al consumatore, garanzie sulla filiera, su tutti i passaggi che questi prodotti ricevono durante la filiera agroalimentare, dal campo fino al piatto. Ecco, dicevamo quindi quali sono le caratteristiche fondamentali della filiera ortofrutticola? Sono proprio il super fresco, le caratteristiche di varietà di questi prodotti e il grado di maturazione. Ecco, noi cerchiamo con questo progetto di valorizzare questi tre aspetti. L'approccio che stiamo utilizzando è partire da questo mercato di Zagarolo e poi replicare questo stesso modello a tutti gli altri mercati del territorio italiano, partendo da un pilota su alcuni prodotti e poi passando anche a, quindi partendo da tre varietà di frutta e poi passando anche ad altre varietà di verdura e altri prodotti alimentari. Ecco, questa è la filiera, una filiera ortofrutticola, ecco ci sono evidenziate tutte le fasi. Noi cerchiamo di acquisire informazioni lungo tutte queste fasi della filiera, le tracciamo in blockchain queste informazioni, creiamo dei contenuti su questi dati grezzi per renderli fruibili al consumatore, dopodiché ne facciamo un racconto, quindi tramite strumenti di storytelling e poi ne creiamo una customer experience, questo proprio per cercare di rendere fruibili queste informazioni al consumatore finale. Dicevamo, i soggetti coinvolti in questo progetto sono il mercato di Zagarolo, ci sono quindi i produttori di questo farmer market, le istituzioni locali, il comune di Zagarolo e poi il consumatore che diventa parte attiva di tutta la filiera. Ecco, questo è un progetto tra tradizione e innovazione, qui prendo un po' a prestito le parole proprio di Carlo Haussmann che quando ha presentato questo progetto ha fatto riferimento proprio a tradizione e innovazione e un connubio un po' particolare però è vincente, è il binomio del futuro. Abbiamo visto quindi, andiamo un po' più nel dettaglio sulla filiera però senza diciamo andare proprio nello specifico, noi abbiamo la filiera, ecco, durante tutta questa lungo la filiera andiamo ad acquisire varie informazioni, quindi a partire dalla varietà poi arrivando all'azienda agricola e quindi andando a vedere quali sono le informazioni ad esempio di superficie coltivata, che tipo di produzione, i dati della coltivazione, i dati di semina, di trapianto, i dati di raccolta per poi avere delle informazioni anche dal trasportatore, ad esempio a che temperatura viaggia le materie prime, i prodotti che vengono trasportati, poi questi prodotti tipicamente vengono raccolti in un centro di raccolta e quindi lì naturalmente c'è lo stoccaggio e ci sono altre informazioni importanti perché sapere ad esempio quanto tempo è stata stoccata una materia prima naturalmente è fondamentale poi nel suo ciclo di vita, quindi poi per arrivare o ai mercati all'ingrosso oppure ai mercati di vendita diretta come quello di Zagarolo. Ecco, questo abbiamo un po' seguito il processo, cercato di disegnare il processo che avviene al mercato, quindi in fase del mercato che coinvolge un po' i contadini a partire proprio dalla filiera fino a quando vendono i loro prodotti. Quindi si parte proprio con la coltivazione del prodotto della materia prima e quindi nello step 1 vengono tracciate tutta una serie di informazioni, qua ad esempio la provenienza, la varietà, la superficie coltivata e la resa massima. Dopodiché nello step 2 il produttore raccoglie i propri prodotti e prima di andare al mercato prepara, forma il lotto che sarà poi venduto. Nello step 4 il produttore avrà a disposizione un kit preallestito che potete vedere anche dall'altra parte nello stand di là dove è un kit plug and play dove è costituito dalla stampante, dal punto cassa digitale, dal POS e da tutti un po' quegli strumenti che devono essere a disposizione di un produttore che vuole fare vendita diretta. Quindi a disposizione del produttore è anche uno spettrometro, qui viene chiamato NIR perché è un dispositivo a raggi infrarossi nel vicino infrarosso e quindi è uno spettrometro che è grande quanto questo puntatore e poi viene puntato sulla materia prima e ne rileva, ne misura diversi parametri, per esempio il grado zuccherino al quale è collegato poi il grado di maturazione della frutta, ne rileva alcuni valori nutrizionali come ad esempio i carboidrati, le proteine, i grassi e così via. Quindi rileva tante informazioni che poi sono importanti per il consumatore finale. Quindi il produttore inserisce ulteriori dati sull'applicazione quali ad esempio la data di raccolta, la data di maturazione e poi emette all'atto della vendita uno scontrino che praticamente noi l'abbiamo chiamato scontrino parlante proprio perché contiene queste informazioni che abbiamo raccolto durante tutta la filiera della materia prima. Quali sono gli obiettivi che ci siamo posti con questo progetto? Sicuramente è un obiettivo di assicurare la qualità di questi prodotti perché diciamo in qualche maniera noi riusciamo a garantire qual è ad esempio il grado di freschezza di una materia prima, riusciamo a garantire se ad esempio quella zucchina è veramente stata raccolta la mattina della giornata in cui viene venduta. Sicurezza alimentare perché naturalmente riusciamo a raccogliere tante informazioni che hanno impatto proprio sulla sicurezza alimentare. Rintracciabilità, una volta che abbiamo raccolto tutte queste informazioni sappiamo qual è il percorso che ha seguito quella materia prima e quindi riusciamo anche a risalire all'indietro e quindi a rintracciare laddove ci è potuto essere un problema. Tipicità perché abbiamo parlato prima di varietà, adesso poi il trend delle biodiversità è un trend crescente ormai uno dei trend più importanti e in questa maniera noi vogliamo cercare di valorizzare anche le varietà che ad esempio non sono tanto conosciute e questo lo possiamo fare soltanto con la conoscenza. Quindi noi sullo scontrino parlante inseriremo anche la varietà della mela che si è comprata in maniera tale che il giorno dopo che uno va di nuovo al mercato può riconosce perché ne conosce il nome di quella varietà. Il nostro sistema ci consente di passare da una filiera che è sequenziale a una filiera che invece è più circolare ormai si parla tanto di economia circolare, in questa maniera noi riusciamo a cortocircuitare tutti gli attori della filiera. Dopo vi racconterò un brevissimo esempio proprio concreto dell'applicazione del nostro sistema nel quale abbiamo visto che abbiamo cortocircuitato ad esempio il produttore della mozzarella con il consumatore. Prima e mezzo c'era il signore che qui sta in prima fila che era il ristoratore e che in qualche modo vendeva al consumatore una mozzarella fritta di cui però il consumatore non conosceva la provenienza. Ecco da quando abbiamo realizzato il nostro servizio il consumatore adesso sa qual è la provenienza, sa il produttore di questa mozzarella. Quindi abbiamo creato un po' un cortocircuito. Quindi prima questo attore qui non si parlava con questo qui, invece creando un ecosistema riusciamo a cortocircuitare tutti gli attori. Il processo l'abbiamo un po' raccontato, l'acquisizione di queste informazioni può avvenire o in maniera manuale o in maniera automatizzata, se in maniera manuale i vari operatori hanno a disposizione delle dashboard dove inserire questi dati oppure invece possiamo usare dei sensori oppure ancora possiamo integrarci con i sistemi aziendali. Le tecnologie che usiamo sono diverse, una su tutte sicuramente la blockchain che è quella che ci consente di dare garanzia, affidabilità, sicurezza delle informazioni che vengono registrate e l'IoT, quindi la parte relativa alla sensoristica, quindi noi misuriamo, come dicevamo prima, misuriamo ad esempio la temperatura, l'umidità della fase di coltivazione di un pomodoro. Usiamo anche Big Data Analytics perché poi raccogliamo una marea di dati che poi devono essere gestiti in qualche maniera analizzati per produrre dei contenuti che possono essere erogati al consumatore finale. Abbiamo fatto anche degli esempi di realtà aumentata, questo per quanto riguarda la customer experience verso il consumatore finale. Questa è la piattaforma che noi abbiamo costruito un po' complessa, però in realtà quello che volevamo far capire con questa slide è che le informazioni che vengono raccolte, che sono quelle in basso, che sono tutte le fonti delle informazioni, poi piano piano vengono acquisite, elaborate e erogate al consumatore finale attraverso questi canali. Ecco, il kit che il nostro servizio è costituito quindi da una piattaforma e poi da un kit che forniamo al banchista, un kit che contiene quindi questo dispositivo di spettrometro per la misurazione di alcuni parametri delle materie prime, un punto cassa digitale, un router e poi anche altri componenti opzionali. Quello che abbiamo visto poi anche sperimentando proprio sul campo è che il banchista aveva la necessità di avere tutti questi componenti, come li vedete lì sparsi, aveva la necessità di averli invece in un unico raccolti già configurati, già preconfigurati perché lui la mattina quando arriva al mercato non ha il tempo di collegarli fra di loro, connetterli, farli partire e così via. Lui la mattina deve scaricare la merce e quindi mettersi subito all'opera. Se venite di là nel nostro stand troverete un kit plug and play, nel vero senso della parola perché all'interno di una scatola di 30x40 cm ci sono tutti quei componenti, quindi il banchista arriva la mattina, attacca l'alimentazione e il kit parte, quindi si avvia senza necessità di fare determinate configurazioni, collegamenti e così via. Ecco questa è l'applicazione che è a disposizione dell'operatore e questo è lo scontrino parlante di cui vi parlavo prima, dove ci sono le quattro informazioni fondamentali, varietà, la provenienza, tutto questo noi lo facciamo attraverso spesso sensori, stazioni di monitoraggio, in questo caso ad esempio la provenienza della materia prima avviene attraverso la geolocalizzazione del campo dove vengono coltivate queste materie prime. La data di raccolta è importantissima per sapere la freschezza delle materie prime che si stanno acquistando e il grado di maturazione altrettanto perché se vengono raccolte ma vengono raccolte acerbe oppure vengono raccolte le mele ma poi vengono messe in celle frigorifere, quindi è importante accompagnare la data di raccolta al grado di maturazione. Poi in realtà spesso, soprattutto per i mercati contadini, c'è la questione della disponibilità di queste materie prime, la loro disponibilità è spesso limitata e quindi quello che succede è che semmai il contadino che ha finito le zucchine vende altre zucchine che però non si sanno l'origine e in questa maniera noi cerchiamo di costruire una rete all'interno della quale il contadino che ha finito le zucchine accede alle zucchine del vicino di cui però si sa la provenienza, si sa la varietà e si sa anche se ne conosce un po' tutta la storia. Io ho finito. Grazie.